Continui incontri tra la dirigenza e Massimo Rastelli faccia a faccia per decidere quale sarà l'ultima pedina dell'Avelino in difesa, almeno per il momento, si sta lavorando tanto per chiudere il cerchio in entrata e a breve per liberarsi dagli ultimi esuberi. Ma mentre per il tassello che dovrà essere il leader della retroguardia non c'è fretta, visto che si potrebbero incastrare situazioni ad oggi non possibili, anche se il polacco Cionec, che piace al Catania, resta un nome caldo, in uscita si cerca di piazzare tutti i giocatori che non rientrano nei programmi della dirigenza. Ma Ducca Nutè ha forti su di lui, Catania e Gubbio, ma non è assolutamente da escludere che il senegalese, come Claudio Micoschi, possa rescindere il contratto e trovare un'altra sistemazione. Federico Casarini piace sempre a Renate di Oscar Magoni, per Gianmaria Zanandria si sta trovando una soluzione con la gente del calciatore che avrebbe fatto sapere di poter trovare una chiave a breve. Il difensore Ramiziaia va verso la rescissione, Agostino Rizzo interessa sempre alla casertana. A centrocampo, dopo il 15 agosto, verrà presa una decisione su Davide Mazzocco, di sicuro, a differenza dello scorso anno, la società non vuole lasciare i suberi.